Il mercato florovivaistico in Italia vale 3 miliardi di euro e occupa 150.000 persone. Come ogni anno, l'associazione Florovivaisti Bresciani si è incontrata, ma rispetto ai convegni scorsi, questa volta ci sono almeno due buoni motivi per gioire. Il bonus verde è il riconoscimento della professione. Sì, il riconoscimento giuridico della nostra professione, l'idoneità professionale. Fino all'altro giorno, per esercitare la nostra attività di costruttore e manutentore del verde, non era necessario dimostrare nessun riconoscimento. Oggi è d'obbligo, prima di iniziare l'attività di manutentore e costruttore del verde, dimostrare di avere dei requisiti tecnici di qualifica professionale del settore. Fatto da chi di verde si occupa, da chi lo conosce, da chi conosce la fisiologia delle piante, da chi conosce e sa come fare e eseguire le potature, da chi sa e conosce cosa vuol dire progettare il verde. Perché purtroppo errori verso il verde poi si pagano al di là del cattivo risultato, del cattivo esito, di quello che possiamo vedere, ma anche dal punto di vista ambientale. Perché se una pianta non è ben curata, non è ben strutturata e non è al posto giusto, non esercita la sua funzione ambientale. Un bonus fiscale, cioè un incentivo, che permette di portare in detrazione il 36% dello speso fino a un tetto massimo di 5.000 euro, compreso IVA, con regolare fattura rilasciata da un professionista, il singolo privato o il condomine può portare in detrazione, attraverso la propria dichiarazione dei redditi, appunto questo 36%. Su bonus abbiamo veramente strappato la fiducia del Governo fino al 31-12-2018. È ovvio che il nostro intento sarà quello di renderlo strutturale per l'anno prossimo e per gli anni prossimi ancora di venire, ma chiaramente il Governo si aspetta una risposta a quella che è stata la nostra richiesta di fiducia da parte del settore che potesse credere nel nostro settore che effettivamente potesse anche costruire un qualche cosa per il nostro Paese. Perché comunque questo incentivo qui, oltre ad incrementare quello che è, diciamo, le potenzialità del verde, il quantitativo di verde che avremo nelle nostre città, avrà anche un'altra importante azione che è quella dell'emersione, purtroppo, del sommerso. E quindi questo vuol dire per le casse dello Stato comunque un incremento di gettito. Allora, l'Associazione Florovisti Bresciani ha visto negli ultimi tempi un incremento di numero di iscritti. Siamo ad oggi a 180 iscritti e questo è dovuto anche al grande lavoro fatto. Il sistema, diciamo così, provinciale sta ripartendo e oggi speriamo che in questo bonus fiscale ovviamente ci sia quell'azione propulsiva che da tempo aspettiamo, che necessitiamo. E anche a livello regionale, direi, essendo anche rappresentante della Soflora Lombardia, quindi dell'Associazione di rappresentanza regionale, stiamo crescendo molto bene. Abbiamo avuto negli ultimi tempi anche delle adesioni da parte del mondo arboricolo, cosa non di poco conto, perché è una specializzazione che è molto attenta a quello che è tutto il mondo degli alberi. Quindi ha maggior ragione ancora di più a quello che è il discorso ambientale.